Ciao a tutti, io sono Inlenia, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo in compagna di Valentina per fare la reaction che è finita male, diciamo, l'ultima volta che ci abbiamo provato, abbiamo avuto problemi, volevamo fare un'altra cosa, volevamo fare la reaction, dire, diciamo, commentare durante il film, diciamo, mentre guardiamo il film, però è andata male, ha avuto qualche problema di percorso e quindi commentiamo questo film dopo averlo visto, che va bene uguale, non ce ne frega. Allora, io ho già preparato il trailer, così ve lo potete vedere, diciamo, in questo video, però ve lo lascio su nelle schede, volete, potete trovarlo su nelle schede. Allora, questo video esce, piccolo disclaimer, una settimana prima rispetto all'ultimo reading blog che dovrà uscire appunto il 27, su Harry Potter e i Dori della Norte, perché qualsiasi riferimento a J.K. Rowling non è puramente casuale. Infatti, volevamo mandare un messaggio positivo, sperando che non venga mal interpretato. Infatti, questo film racconta di una ragazza, Lara, che però è nata nel corpo di un ragazzo e Lara vorrà quindi iniziare un percorso ormonale per cambiare sesso a tutti gli effetti e che vorrà poi diventare una star, diciamo, ballerina professionista danza classica. E quindi volevamo appunto trattare questo argomento in modo positivo, comunque, commentando questo film, per anche distaccarci da tutto ciò che la Rowling ha detto in questi mesi. Infatti, poi vabbè, lo dirò anche nel vlog, Hogwarts sarà sempre casa di tutti, senza nessuna distinzione. Volevamo anche mandare questo messaggio, comunque. Allora, adesso partiamo con il trailer, così vedrete di cosa si tratta questo film. Noi l'abbiamo già visto, però cercheremo di non fare spoiler nei nostri commenti. Però comunque, volevamo commentare questo, comunque, anche dopo averlo visto e non durante come volevamo, però ci va bene lo stesso. Allora, adesso un paio di minuti, vediamo il trailer. Comunque lo lascio in su nelle schede, se volete vederlo per conto vostro. Dato che non l'abbiamo visto un paio di giorni fa, siamo riusciti a prendere tutta la storia, la dinamica, abbiamo letto tutte le trame, per capire un po' se avevamo capito tutto il percorso del film. Un film che tocca tanto, tocca veramente tantissimo ragazzi e ragazze e che può, secondo me, dare tanto insegnamento a chi non riesce a capire cosa sta affrontando una persona transessuale o transgender. E' veramente un percorso che non mi aspettavo, ma veramente, veramente difficile, quindi lo fa interpretare molto molto bene, lo fa capire molto bene. Inoltre, veramente la determinazione di questa ragazza su quello che vuole essere, sia per il fatto che vuole cambiare sesso, quindi da uomo a donna, che è l'essente donna, e sia dal fatto che vuole diventare tutti questa ballerina, facendo veramente di tutto e di più per farlo, fa veramente capire quanto può essere forte la forza di volontà di noi esseri umani. Quanta forza buona, ma anche cattiva possiamo avere, perché incontrerà tantissimi ostacoli questa povera ragazza per realizzare i suoi sogni. Lascio ora la parola alla protagonista. Volevo solo fare degli approfondimenti, perché sono sicuramente d'accordo su quello che hai detto, perché questa ragazza, nonostante tutto e tutti, ha comunque raggiunto il suo, io ho almeno interpretato così, lei comunque ha raggiunto il suo obiettivo, quindi ora è una donna, cioè diventerà poi donna effettivamente, però secondo me poi tutto il suo finale, diciamo tutto il suo percorso per essere interpretato a proprio piacimento, come lo si vuole interpretare, perché secondo me il finale ti fa capire qualcosa, però alla fine sarà il nostro compito poi interpretare quel finale, però abbiamo detto senza spoiler, quindi non lo rifaremo. Volevo solo dire che è vero che ci sono tanti ostacoli, non bisogna mai abbattersi, ma in qualsiasi cosa, infatti Lario in questo film ce l'ha fatto vedere, perché lei deve anche affrontare non solo le difficoltà esterne, perché lei comunque incontra delle persone che la deridono, infatti anche come si è visto nel trailer le amiche, quelle che si dovrebbero definire amiche, che non sono, diciamo in quel senso la sfottano, perché comunque lei è un ragazzo fisicamente, quindi loro diciamo che un po' la stuzzicano sotto questo punto di vista, però dall'altro lato deve anche affrontare tutte quelle difficoltà fisiche, perché lei si sente una ragazza, ma fisicamente è un ragazzo, ancora un ragazzo, ma anche nelle piccole cose, c'è una scena in cui lei si trova con un ragazzo e vorrebbe sentirsi donna anche fisicamente, vorrebbe essere donna anche fisicamente per il momento che sta passando con questo ragazzo, ma in realtà la reazione del suo corpo fisico è diversa da quello che si aspetta lei, quello che vorrebbe in realtà lei, quindi non solo ha delle difficoltà con le altre persone, ma anche fisiche secondo me. Però una cosa che vorrei dire, è proprio una cosa molto importante, è che è bello avere comunque delle persone che stanno vicino, che ti supportano come il papà di questa ragazza, come il papà di Lara che è il primo a voler aiutare sua figlia e questo non è da tutti assolutamente, è un padre più unico che è raro comunque, perché sa che per sua figlia è la priorità essere una ragazza e voler cambiare sesso. Però dall'altro lato secondo noi ci vuole anche un rispetto per il proprio corpo, anche se si vuole cambiarlo, perché abbiamo visto che Lara fa di tutto per non sembrare una ragazza, un ragazzo, scusate, fa di tutto anche fisicamente, lei si fa male fisicamente perché non si accetta nel corpo in cui si trova, però appunto poi troverà delle difficoltà nel suo percorso ormonale, come avrà detto poi a Lara la dottoressa, perché bisogna comunque prendersi cura del proprio corpo per raggiungere i suoi scopi, cioè lei dovrà comunque tenere presente questo aspetto, che è importante prendersi cura del proprio corpo per poi raggiungere quello che lei vorrebbe. Se senza un corpo sano, che comunque ti farà del male, non potrà continuare la cura ormonale, che è la sua priorità. Dobbiamo comunque prenderci cura del nostro corpo per poterci accettare poi anche nel corpo che avremo in seguito, almeno chi vorrebbe cambiare sesso o che sia da uomo a donna, da donna a uomo. Io credo questo, nonostante suppongo le frustrazioni che si hanno nel vivere in un corpo in cui non ci si sente proprio, insomma, io capisco, anzi, non lo capisco appena perché non ci sono passata io personalmente e neanche le persone a me vicine, posso solo immaginare e capire lontanamente la frustrazione e il disagio che si prova a vivere in un corpo che non si è proprio prima di tutto e poi sentirsi dire che non si è vere donne, si è vere di uomini, che si vuole cambiare sesso. Tra l'altro anche la Rowling, io mi dissocio di tutto quello che ha detto lei perché non mi trovo d'accordo. Io ovviamente non sono andata a insultarla o quant'altro, a denigrarla assolutamente, però con questo video volevo farle comunque una critica. e tutti siamo uomini, tutti siamo donne, indipendentemente dal nostro, ovviamente, modo di vedere la società come tutto un discorso che poi, vabbè, si può anche dire che dobbiamo essere, comunque, ci dobbiamo accettare come siamo e dobbiamo anche accettare gli altri per come sono, perché possiamo anche trovarci noi in una situazione di qualcun altro magari prendiamo in giro qualcuno, ma dobbiamo sempre pensare che al posto di quella persona ci possiamo essere noi. Quindi, volevo anche comunque tornare sul discorso di Harry Potter, dato che la settimana prossima esce il video, che Hogwarts è per tutti, non c'è nessuna distinzione di orientamento sessuale, né di carnagione o di religione. Hogwarts è casa per tutti e non solo per alcuni, altrimenti si cadrebbe nel male, no? Nel pensiero di Mangiamorte e di Lord Voldemort, perché loro sostenevano che Hogwarts dovesse essere una scuola solo per puro sangue, ok? Quindi, prendevano in giro ed escludero di mezzo sangue nati babbani. Invece, Hogwarts non è così. Hogwarts deve essere comunque una scuola per tutti e aperta a tutti, dipendentemente dal orientamento sessuale, come dicevo prima, dalla religione o il cuore di bella, dal paese di provenienza. Niente, questo è il mio pensiero, ovviamente, senza fare spoiler al film, perché altrimenti si andrebbe nello spoiler che non vogliamo fare. Vuoi dire qualcos'altro? Vuoi aggiungere qualcos'altro? Guarda, penso che la maggior parte delle cose le ha aggiunto il tema che hai parlato. Che cosa devo dire? Che sono assolutamente d'accordo con ciò che hai detto, sia per quanto riguarda il film sia per quanto riguarda lei. Neanche ho voglia di pronunciare il suo nome. E penso che, vabbè, abbiano capito di chi siamo, vabbè, di chi sto parlando. Perché tutti noi siamo liberi, liberi di essere ciò che vogliamo, sia nel corpo, sia nell'aspetto, quindi, e sia in altre cose. Sempre se non dobbiamo opprimere altre persone. Ma se è soltanto una cosa nostra che non facciamo male a nessuno, possiamo fare ciò che ci pare. Il corpo è nostro, ciò giustiamo noi come vogliamo. Quindi, è libertà. E penso che non ci sia meglio di essere liberi in tutti i sensi, 360 gradi. Sì, dicevo, scusa, mi sento interrotto. No, ma sicura. Finché non danneggiamo la nostra salute e quella degli altri, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Però, ricordandoci sempre, c'è prima di tutto la salute. Infatti, come dicevo prima, anche Lara si danneggia il proprio corpo. Quindi si fa del male fisicamente. E poi avrà delle conseguenze anche gravi. Certo, certo, sì sì. Finché sono d'accordo, comunque, noi siamo liberi di fare quello che vogliamo. E abbiamo comunque la nostra libertà. Però la nostra libertà finisce quando inizia quella degli altri, prima di tutto. E soprattutto, se non ci duele la salute, se non fa male la nostra salute, siamo liberi di fare quello che vogliamo. In realtà, di fare il sesso, di stare con una persona del proprio sesso, di farci tatuaggi, piercing, non so, vestirci come vogliamo, truccarci come vogliamo, senza dar conto a qualcun altro. Sempre, ovviamente, vabbè, poi aprono tantissime altre strade, tantissimi altri discorsi. che non sono parte di questo video, però siamo comunque liberi di fare ciò che vogliamo, senza, appunto, danneggiare noi stessi, né danneggiare gli altri. E ovviamente poi, ovviamente, come dicevo poco fa, si aprono tantissimi altri discorsi che non sono parte di questo video, però siamo comunque liberi di fare ciò che vogliamo, nei contesti giusti, nella libertà giusta. Però, dobbiamo comunque sentirci bene con noi stessi e liberi di fare quello che ci passa dalla testa. I limiti di tutto, ovviamente, anche della legge, non è che vogliamo spingere a fare qualcosa di illecito o essere indegorosi, però comunque, ripeto, non entriamo in discorsi, non usciamo dal tema di questo video. Però, comunque, volevamo sempre, dall'altro lato, incoraggiare tutte quelle persone che non hanno il coraggio di aprirsi, di farlo assolutamente, perché non c'è niente di male. E esprimete sempre voi stessi e la vostra creabilità. Questo, volevamo solo dire, che c'è qualcuno che vi accetta così come siete. Ok, quindi, non scoraggiatevi di fronte a chi non vi accetta, perché non è così. Cioè, ci sono altre persone che vi accettano così come siete, quindi uscite allo scoperto, non fatemi prendere dallo scoraggiamento. Poi, penso, se loro poi si aprono per qualsiasi cosa, sia ovviamente sessualità o veramente qualsiasi cosa, e queste persone invece di comprendere e dire qual è il problema, semplicemente, perché è una cosa normalissima. Siamo umani, cioè, quindi non c'è nulla di sbagliato assolutamente. Ma se poi queste persone dicono, no, guarda, è sbagliato, oppure sei esattamente di queste persone qui che sono, cioè, ignoranti, perché altre parole cosa posso dire, ignoranti, altro non posso dire. Non comprendendo cosa può dire la persona, non capendo che è tutto nella normalità, quindi queste persone che vi dicono così, che non accettano, non vi amano. Purtroppo è la realtà cruda e nuda, è questa. Invece troverete appunto nel vostro percorso persone che vi amano e persone che purtroppo non vi ameranno. Però è la vita ed è meglio scoprire subito chi non è degno di stare al vostro bianco. Si può anche parlare del discorso religioso, però quello poi, appunto, come dicevo prima, si esce un po' dagli schemi. Però io da credente posso dire che Dio ci ama per così come siamo, non fa distinzioni, ci ama tutti nello stesso modo. Dio ama anche il criminale, quindi se ama il criminale può amare anche una persona omosessuale, una persona trans. Un messaggio sottolato. Sì, spero che sia arrivato, che non sia, come dicevo all'inizio, malinterpretato, perché comunque vogliamo mandare un messaggio di speranza, di positività, e dire che comunque c'è qualcuno che accetta tutti, così come siete, anzi come siamo. Accettiamoci un po' tutti a vicenda, accettiamoci prima di tutto noi stessi. Se non ci accettiamo, arrivare al punto tale da accettarci, qualsiasi condizione sia. In particolar modo, dato che siamo in tema, a tutte quelle persone che dovrebbero fare il coming out, fatelo perché non c'è niente di male, amate chi volete, love is love in qualsiasi contesto in cui vi troviate, e soprattutto a tutte quelle persone che si sono sentite ferite e offese dalle dichiarazioni della Rowling, battetene altamente, perché non è una persona a cui d'accordo, assolutamente. Nonostante lei si sia giustificata dicendo che ha soffito delle violenze, ma non credo sia un motivo per disfignare qualcun altro, anzi, io ovviamente non giudico lei per le cose che ha passato, perché sicuramente avrà passato dei momenti terribili, dato che ha soffito delle violenze, non lo possiamo mettere in dubbio, però secondo me doveva, poi ognuno può vedere come vuole, poteva comunque non aggredire qualcun altro, una colpa che non ha, ma comunque fare qualcosa per sensibilizzare e fare magari una campagna, qualcosa appunto contro la violenza, contro le donne, contro la violenza in generale, anche contro gli uomini. Scusami, aveva comunque la possibilità di aprire campagne su campagne, fare veramente tantissime cose, se voleva veramente, perché la possibilità l'aveva, perché comunque tutte le persone che la stimavano, passato ovviamente, e la seguivano e la sostenevano, avrebbe veramente potuto fare grandissime cose, tanto che comunque le basi in tutti i sensi le aveva. Questo è un messaggio di speranza per tutti quelli che non si sentono accettati, e non vi preoccupate, perché ci sono tantissime altre persone che non si accettano, però sappiate che non c'è niente di male a sentirsi donna nel corpo di uomo e viceversa, non c'è niente di male ad essere omosessuali, non c'è niente di male ad essere come siete, qualsiasi cosa voi sentiate di essere, non c'è niente di male, è tutto normale. E vabbè, comunque penso che tutte le nostre impressioni le abbiamo già dette commentando questo film, e entrando anche in merito di qualcos'altro, di qualche altro tema, che si ricollegava a quello principale. E niente, se vuoi aggiungere qualcos'altro, io penso di averle espresso tutto, appunto ripeto, senza voler entrare nello spoiler del film. Proprio, se altro c'è la versione, ma penso che abbiamo parlato comunque adeguamente su, per quanto riguarda il film ovviamente, senza spoilerare, sennò veramente ci uccidono, e senza comunque, cioè, e anche, devo dire, aiutando comunque queste persone o chiunque altro a far capire che ci sono persone invece che sostengono tutto ciò, anzi, che trovano assolutamente nella normalità. Chi dice, guarda, è una moda, cioè, veramente mi fa uscire la ganga, e quando mi dicono, eh, ma guarda che è una moda, non è una moda, perché c'è sempre stato, eh, ma nei miei tempi non c'erano, no, mie cara, esiste le tante, le tante, le tante, le tante. Magari a cambiare sesto, dato che stiamo parlando di transissualità. O magari con, anche uno psicologo, che magari vi può aiutare ad aprirvi a fare coming out, o a fare qualsiasi cosa, dato che stiamo parlando di questo. E, boh, questo volevo dire, cioè, non c'è niente di male a essere gay o a essere trans, essere qualsiasi cosa voi siate, e se vi sentite di aprirvi, di fare coming out, toccatelo pure, c'è qualcuno che vi dirà male ma questi cazzi li dovete accettare prima voi e la vostra omosessualità o eterosessualità o se siete trans non deve essere un ostacolo ma un punto a favore quindi speriamo di essere riuscite a mandare questo messaggio positivo che volevamo dare e io questo volevo dire comunque per commentare il film ovviamente poi ci addentriamo nel discorso insomma prima di tutto non finiamo più poi comunque penso di aver commentato già troppo il film per quanto riguarda il film comunque io almeno personalmente sono aperta al discorso ovviamente in modo pacifico se volete potete lasciarvi tutti i vostri pensieri e opinioni al riguardo se volete raccontare la vostra esperienza o l'esperienza di qualcuno che vi è vicino noi siamo aperti, siamo aperti al dialogo e ovviamente senza scannarci vabbè io non chiedo like, non chiedo iscrizioni a questo video non ne sento il bisogno in questo momento vi chiedo solamente se volete di raccontare la vostra esperienza e mandare anche voi magari un messaggio positivo e di speranza per tutti quelli che non hanno ancora avuto il coraggio di affrontare la propria normalità perché siamo tutti normali in questo modo va bene? allora ci vediamo nel prossimo video sperando di trovarvi che sarà uno vabbè poi adesso ricordo anzi annuncio che ci saranno due video dedicati ad Halloween questo giovedì e il prossimo giovedì e poi ci sarà l'ultimo vlog dedicato a Harry Potter quello dedicato ai doni della morte che sarà l'ultimo e comunque sì ecco questo volevo dire questa è l'ultima news l'ultima novità che volevo annunciare niente dai questo è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.